No, nemmeno... No, se fanno così con dito, su. Ma cosa le stanno spiegando? N, O, ON, ON, ONU. Siamo entrati nell'ONU. Ma no, ma dai. Non mi fate le lettere italiane. Siamo in autonomia veneta. No, diteglielo. Abbiamo i caratteri veneti e usemo i... N, O. No, di cosa? Cosa no? Eh, certo. No? Cosa? Non abbiamo caratteri veneti? No. Cosa? Diteglielo. Non avevamo l'autonomia veneta. Ma cosa dite? Ma certo che non... Ma come no? Ma come no che avevamo l'autonomia? Ma è una mezz'ora che dovevano avvisarla. No che avevamo? Ma scusa, non hanno fatto il giuramento? Sì, ma il governo... Ma martedì il governo non ha avuto la fiducia e noi che avevamo l'autonomia. Non è automatico. Camilla, dimmi te che avevamo l'autonomia. No, ma no. Ma non è automatico. Totico, conferma, ma... Mamma mia, ce li fanno malissimi. Ma perché no? Ma questa che mi dite, c'è una ferita al cuore. Ma non è ancora autonomo il Veneto, non l'hanno ancora fatta al cuore. Ma il centrodestra non c'è smash up a fare questa cosa? Ma no.